c'è un paio di scarpette rosse numero 24 quasi nuove sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica schultz monaco c'è un paio di scarpette rosse in cima a un mucchio di scarpette infantili a buchenwald erano di un bambino di tre anni e mezzo chissà di che colore erano gli occhi bruciati nei forni ma il suo pianto lo possiamo immaginare si sa come piangono i bambini anche i suoi piedini li possiamo immaginare scarpa numero 24 per l'eternità perché i piedini dei bambini morti non crescono c'è un paio di scarpette rosse a buchenwald quasi nuove perché i piedini dei bambini morti non consumano le suole fili elettrici alti e doppi non ti lasceranno mai più rivedere tua figlia mamma non credere alle mie lettere censurate ben diversa è la verità ma non piangere mamma e se vuoi seguire le tracce di tua figlia non chiedere a nessuno non bussare a nessuna porta cerca le generi nei campi di auschwitz le troverai lì ma non piangere qui c'è già troppo amarezza e se vuoi scoprire le tracce di tua figlia cerca le generi nei campi di birkenau saranno lì cerca cerca le generi nei campi di auschwitz nei boschi di birkenau cerca le generi mamma io sarò lì